Oggi analizziamo i risultati delle aste internazionali di Giorgio Morandi, un altro dei grandi maestri italiani, universalmente riconosciuto, uno dei pochi ad avere effettivamente un mercato in tutto il mondo, assieme a Lucio Fontana, assieme a Emilio Vedova e assieme a pochissimi altri, ancora più di artisti del calibro osannati, del calibro di De Chirico, di Guttuso, certamente Morandi ha un mercato molto più importante. Come sempre iniziamo dai numeri, dalle classifiche, in particolare nella rubrica di oggi prendiamo in considerazione esclusivamente le opere a olio su tela inerenti alle nature morte. Per far sì che i dati siano confrontabili, che siano oggettivi, che uno studio scientifico sia effettivamente plausibile, occorre che nei nostri confronti prendiamo in considerazione dati omogenei, quindi in questo caso oli su tela, nature morte. Iniziamo, il record attualmente resiste da poco, meno di due anni, un'opera di forma particolare, una forma ovale e una rarità, evidentemente anche la rarità del supporto ha determinato questo record, non ce ne sono tantissime, non ce ne sono forse altri due o tre in giro per il mondo opere di questa tipologia, quindi in questo caso parliamo di una natura morta, soprattutto del 1940 circa 38 cm per 50, aggiudicata a oltre 3 milioni e 600 mila Euro. Opera acquistata a New York e quindi, come dicevo prima, si conferma che Giorgio Morandi ha un appeal, un richiamo effettivamente internazionale. Per confermare questo, prendiamo l'opera che occupa la seconda posizione, una natura morta, diciamo classica, di forma classica, quindi rettangolare, venduta a Londra, anche questa è un'opera del 1939, venduta a oltre 3 milioni e 400 mila. Per quanto riguarda la grodatoria per coefficiente, che è molto più significativa di quella per importo, ugualmente il primo posto è occupato dalla natura morta di forma ovale, la riguardiamo per un'ultima volta, prima di guardare i dati, di guardare questi numeri sotto forma grafica, dove evidentemente si leggono meglio. Ecco, il grafico è frastagliato, sicuramente ha una forma sinusoidale, ma c'è da tener conto che a partire dall'anno 2000 al 2019 la linea di tendenza è evidentemente in salita, quindi non dobbiamo guardare che dal 2018 al 2019 c'è stato un decremento, dobbiamo tener conto che a livello di investimento chi ha acquistato, in particolar modo dal 2009 potremmo dire, o anche dal 2014 sicuramente ha fatto un ottimo investimento, perché dal 2000 al 2019 certamente si è raddoppiato il valore e vi ricordo che il coefficiente è un dato oggettivo, è assolutamente insindagabile, quindi prescinde dal mercato, prescinde dall'importo, perché è un dato calcolato matematicamente a ritroso, dividendo l'aggiudicazione e l'importo, dividendola per la base più l'altezza, quindi è un criterio assolutamente matematico, ma assolutamente oggettivo, non è contestabile. Possiamo vedere il mercato americano a livello di coefficiente di Giorgio Morandi, vediamo che i coefficienti molto molto alti, attorno a 2000 come valore, una leggera penalizzazione dal 2018 al 2019, ma anche qui se prendo dal 2018, consideriamo dal 2018 al 2019, vediamo che anche in questo caso si è raddoppiato. Mettiamo a confronto questa curva con il mercato europeo, quindi in America coefficiente circa 2000, mercato europeo, anche qui la solita crescita è il solito raddoppio da 700 a 1300, coefficiente medio, diciamo che ultimamente attorno al 1300, meno, più basso di quello americano, per finire vediamo il coefficiente medio che è in Italia. Come si verifica per altri grandi maestri italiani? Qui vediamo una sorta di paradosso. in Italia si paga di meno, le opere di Giorgio Morandi costano di meno. Adesso anche qui la considerazione è semplice, evidentemente nel mercato straniero ci sono meno opere che nel mercato italiano e quindi una maggior rarità e quindi necessariamente per poterle acquistare bisogna spendere qualcosa in più. Viceversa in Italia si trova qualche opera in più e questo necessariamente fa sì che i collezionisti possano spostare la propria attenzione su più offerte. se però teniamo conto del numero di opere aggiudicate, in realtà vediamo che siamo a livello veramente scarsi, cioè veramente pochissime opere, 4 nel 2018, 3 nel 2017, 4 nel 2016. ancora peggio, come dicevo prima, ancora peggio nel mercato americano, quindi vedete una, due opere, ecco che questo fatto, questo elemento, quello che dicevo prima, il fatto che sul mercato straniero ci siano meno opere, determina una maggiore offerta e quindi un coefficiente più alto. Di conseguenza per concludere possiamo assolutamente consigliare, ma è molto semplice in questo caso parlando di Giorgio Moranti, consigliare di acquistare opere, nature morte, olie su tela, ma anche le incisioni, anche i paesaggi, in questo caso abbiamo affrontato le nature morte, sicuramente costituisce un ottimo investimento mettere in collezione un'opera di Giorgio Moranti.